I tigri che mi scrivono sicchi ma non lavori più, a breve ricomincio ragazzi, ma voi state scherzando che io lascio il lavoro, ma siete matti? Quella è la cosa più importante, a breve ricomincio. E niente, tigri stamattina sono in cerca di casalinghe un po' trasandate, no? Chissà da quanto non lo fanno, Dio santo, quelle sono le migliori tigri, ma tutti io devo insegnare, ma Dio santo.